La misericordia è il cuore del Vangelo, ha detto Papa Francesco nel discorso ai partecipanti al corso sul foro interno, promosso dalla penitenzieria apostolica e sul tema della confessione. Il Papa ha osservato che i fedeli fanno spesso fatica ad accostarsi al sacramento e i sacerdoti devono favorire l'avvicinarsi alla misericordia e al perdono, ma guardandosi dal rigorismo e dall'assismo. La confessione, ha detto, non è un tribunale di condanna, ma esperienza di perdono e misericordia. Per questo è molto importante che in tutte le diocesi e nelle comunità parrocchiali si curi particolarmente la celebrazione di questo sacramento di perdono e di salvezza. Ebbene, infine, che in ogni parrocchia i fedeli sappiano quando possono trovare i sacerdoti disponibili. Quando c'è la fedeltà, i frutti si vedono.